Il momento per la nostra scuola, per l'educazione dei nostri figli, per la formazione di quelli che saranno gli uomini e le donne di domani è veramente tragico, è veramente complicato. La conoscenza è sempre più affidata alle nozioni che si trovano in rete. I ragazzi vengono esortati dai loro insegnanti a fare ricerche su Wikipedia, in realtà in questa maniera sottraendosi al loro lavoro e nello stesso momento insegnando a questi ragazzi a prendere tutte le loro informazioni sempre da un'unica e stessa fonte, tra l'altro ben poco attendibile, ben poco imparziale, molto spesso anche inficiata da errori di vario tipo, da superficialità o comunque da orientamenti non così asettici, tipici di una fonte che non è oggettiva. O comunque non lo è completamente. È una fonte che fra l'altro viene spesso caratterizzata da censure, nonostante si dichiari enciclopedia libera tutte le volte in cui qualcuno cerca di aggiungere o correggere qualche cosa. Ecco, gli insegnanti delegano questi lavori a questi ragazzi che fanno un copia e incolla tutti insieme e arrivano il giorno dopo avendo stampato opportunamente la stessa identica ricerca. Lo stesso vale per il resto di questo approccio ormai scolastico che di educativo ha ben poco, che non riesce più a evidenziare e a rafforzare, a far emergere le caratteristiche personali individuali dei nostri ragazzi, perché quello che conta è che reagiscano e agiscano tutti nello stesso identico modo, pensino, parlino tutti nello stesso identico modo, tenendoli chiusi in queste aule per molte ore, aule affollatissime, proprio con l'intento di far sì che si uniformino sempre di più gli uni agli altri, che il gruppo in qualche modo fagociti e indottrini l'elemento che magari cerca un pochino di sottrarsi all'uniformità, diciamo insistendo e costringendola a seguire la moda del resto dei componenti, a seguire il modo con cui si parla, il modo con cui si interagisce, che è il modo con cui si fanno le cose e che non deve essere in nessuna maniera messo in discussione. Il ministro della pubblica istruzione, che soltanto a gennaio scorso aveva in una conferenza stampa all'Università Cattolica, aveva sostenuto che il progresso della scuola in Italia coincide con quello del 5G e quindi della tecnologia digitale di trasmissione dei dati wireless, in questo momento più elevate, anche più discussa e problematica, ma insomma anche questo tipo di obiezioni ormai non è più possibile sollevarle. E quindi lo stesso ministro è colui che proprio in queste ore ha rilasciato una dichiarazione che trovate in rete, secondo la quale la scuola non deve essere più un meccanismo che serva per accumulare conoscenze, ma che serva invece per sincronizzare, diciamo così, le competenze digitali. Quindi siamo ormai in una scuola in cui l'unica cosa che si continua a propagandare è l'aspetto della connessione finta, digitale, che purtroppo è anche davvero sempre più l'unica maniera per poterci raggiungere, ma che rischia seriamente di mettere in discussione o di mettere definitivamente da parte il contatto reale. E soprattutto questo mettere in secondo piano la conoscenza, che ha un significato e una profondità notevolissime, ben al di là di quello che è il cercare informazioni su Wikipedia, perché di fatto stiamo parlando comunque di una conoscenza che deve servire a risvegliare in ognuno di noi le proprie singolarità, cosa che come ho detto prima invece viene assolutamente proibita. Ecco, siamo di fronte a una situazione in cui questo tipo di educazione, di aiuto e sostegno allo sviluppo, proprio inteso nel senso letterale del termine, cioè questo liberarsi dai viluppi, liberarsi dai legacci, dalle catene, questo liberarsi quindi, farsi liberi per poter essere finalmente se stessi, è bandito completamente, è bandito nelle famiglie, è bandito negli ambienti di lavoro, è bandito nelle piazze, è bandito nelle aule di scuola. Per parlare di questo sto dando l'anima cercando sia di fare conferenze, incontri, ma anche praticamente non solo di criticare, ma di inventare qualcosa di nuovo e quindi sto costruendo questo sistema di video homeschooling, è vero, purtroppo è a distanza, ma non è certo quella dad tipaticissima che ti obbligava a connetterti a una certa ora e stare lì appiccicato e in realtà non poter in alcun modo interagire granché, non parliamo poi della serietà, delle verifiche a distanza che venivano effettuate, somministrate durante la fase appunto della didattica a distanza a scuola. Stiamo parlando invece di corsi, di insegnanti che io reputo bravi, capaci, molto preparati, ma anche in grado, chi più chi meno, comunque di coinvolgere particolarmente i ragazzi, lezioni che uno può, diciamo così, utilizzare, di cui può fruire in tutta libertà, quando vuole, nei tempi che vuole, tornando indietro quando non ha capito, fermandosi, ricominciando il giorno dopo e via di seguito, addirittura lezioni che vanno dalle elementari alle scuole superiori, quindi per le elementari abbiamo un maestro bravissimo che segue i bambini, chiaramente essendo a distanza ci vuole la presenza di un adulto, di una mamma, di una nonna, ma in realtà le competenze specifiche e soprattutto la capacità di saperle trasferire e di farle emergere dagli stessi bambini sono cose che sono proprietà che lo stesso maestro ha e che sa mettere a frutto nel modo migliore. Ecco, questo è un modo con cui, fra l'altro a prezzi bassissimi, stiamo cercando davvero di dare un servizio, veramente prezzi da fame, cioè a livello di una lezione privata per un intero anno scolastico, perché vogliamo, perché io per primo voglio, io che l'ho inventato questo progetto, io voglio offrire alle famiglie che sono stufi di una scuola da cui bisogna prendere assolutamente le distanze, perché sta diventando un veleno, la possibilità di farlo senza essere ricche, senza avere chissà quali sostanze e anche senza avere le possibilità, le capacità di insegnare autonomamente, perché non è che se si è genitori allora si è per forza sapienti nel senso della scuola, poi ci sono molte forme di sapienza, quindi diciamo istruiti da quel punto di vista, e vorrei sottolineare anche che nemmeno il fatto di essere genitori implica il fatto di essere buoni educatori, anche lì c'è un discorso enorme che va fatto e che andrebbe sviluppato, e ne parleremo ancora, ne parlo già da tanto tempo. Quindi ci vuole un sostegno, un aiuto, ma gli stessi insegnanti che si trovano di fronte, un ministro che collega il sapere a scuola e la ricerca e lo sviluppo culturale e anche psicologico ed educativo di un individuo con il 5G, con le competenze digitali, sono insegnanti che dovrebbero uscire da quella scuola, andiamocene, io l'ho fatto, facciamola, andiamo via gli insegnanti che lavorano con me, sono tutti insegnanti che si sono staccati, schifati da questo sistema, andiamo a insegnare nelle piazze come faceva Socrate, andiamo a insegnare nei giardini, nei parchi, ritiriamoci da questa scuola e facciamoci noi artefici di questa diffusione della cultura, ma anche dell'educazione e dei valori che in realtà la scuola ha abbandonato, ha messo da parte in mano a questi loschi figuri che sono, secondo me, veri e propri criminali da cui doversi proteggere. aggiungo che proprio per parlare di queste cose e nello specifico del concetto di verità e anche per spiegare quanto poco abbia a che fare la verità scientifica con quella che è la verità nel concetto che abbiamo nella nostra mente, ponendo problemi epistemologici importanti e cercando di spiegarli in maniera chiara affinché si comprenda che una verità scientifica è sempre provvisoria e è sempre, diciamo così, esposta a critiche e deve essere esposta a critiche, è sempre fallace, è sempre legata a un meccanismo induttivo che ha i suoi limiti e che quindi fa sì che questa idea di scienza che è quella vera, che è quella giusta, che è quella umile, che è quella democratica, altro che quello che dice il professor Burioni, sia molto lontana da quella che invece viene propagandata come veramente uno strumento in mano al potere. Ecco, per fare questo, per dire questo, per raccontare queste cose ma raccontarne altre anche che hanno a che fare con l'educazione dei nostri ragazzi e con il fallimento totale, la degenerazione totale della nostra scuola, sto girando da tutte le parti, non riesco a fermarmi, credevo che si limitasse il mio giro soltanto all'estate e sto andando avanti perché mi chiamano ovunque, ma voglio ricordarvi che il prossimo appuntamento è proprio quello di Ferrara, nei pressi di Ferrara potete chiedere informazioni e prenotarvi alla mail eventibv come bologna-verona, eventibv-gmail.com si tratterà di un seminario residenziale che terrò già tra pochissimo, il 6 e 7 novembre, quindi ormai ci siamo appunto in quel di Ferrara, nei pressi di Ferrara, un seminario che ci permetterà di vivere insieme per due giorni presso una struttura che ci ospiterà, che ospiterà tutti coloro che vorranno partecipare, in cui terrò un paio di lezioni il pomeriggio del sabato e poi un'altra lezione la mattina della domenica. Ma il mio giro continuerà perché sarò il weekend successivo a Chieri, precisamente a Riva di Chieri, in provincia di Torino, e poi trovate tutte le informazioni sul sito boscoceduo.it alla pagina news, ma insomma io continuo ad aggiornarvi anche sulle mie pagine social, su YouTube, su Facebook, eccetera. e poi il weekend ancora successivo, il sabato 20, sarò a Cremona, 20 novembre. Insomma continuo a girare per cercare di dare l'anima e di impegnarmi come un matto per contrastare questo schifoso nulla che sta procedendo, che sta avanzando e che sta inghiottendo tutto e tutti, a cominciare dai nostri figli, dai nostri giovani, dai nostri bambini. Grazie a tutti, rinnovo l'esortazione, rinnovo l'invito, usciamo da queste scuole, usciamone quando se ne esce da questi edifici per una questione di scioperi, di manifestazione. Scioperiamo andandocene via, scioperiamo trovandoci altri luoghi in cui avere a che fare con i nostri ragazzi. La possibilità che esista ancora un futuro per la nostra umanità a questo punto dipende assolutamente ed esclusivamente da noi e dalla nostra capacità di ribellarci a questo sistema. Voglio che questa responsabilità così forte, gli insegnanti di tutta Italia comincino veramente ad avvertirla. A Kabul. Vogliono un tappeto d'oro o uno di bombe? Attaccheremo prima delle grandi nevicate. Grazie a tutti.